buongiorno a tutti sono sciagattatissima niente volevo presentarvi questo mio nuovo digital kit e al tema dei gatti volendo è personalizzabile io adesso ho scritto il nome della ragazza che avrà questo bellissimo gioco giornal però voi potete scegliere e anche personalizzare le pagine se non piace qualcosa se vi piace e mi raccomando iscrivetevi al mio canale e lasciatevi un commento per avere questo digital kit e mettetevi tanti tanti mi piace e così vedete grazie ciao 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 ciao